Studiate perché con la cultura si combatte la camorra e non abbiate paura di essere liberi. Don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, noto per le sue battaglie contro i clan, ha fatto visita agli studenti dell'Istituto Agrario de Santis di Avellino per confrontarsi con loro sul tema della legalità, affiancato dal preside Pietro Caterini. Don Patriciello si è detto anche favorevole alle proteste che nelle ultime settimane hanno portato avanti gli agricoltori italiani. Intanto si parla ai giovani e i giovani portano con sé un sacco di forza, di entusiasmo, di speranza che tante volte però noi adulti non sappiamo intercettare. Questo è uno dei primi problemi. Ieri scrivendo qualche cosa, anche dovendo prepararmi per l'omelia della domenica, ho detto che noi dovremmo essere in grado di individuare le trappole e indicarle ai ragazzi perché non ci possono cadere dentro. Pensate solamente alla trappola della droga, dell'alcol, anche a quelli che sono i mondi segreti di internet dove tante volte i ragazzi si smarriscono nel gioco d'azzardo. Insomma, dovremmo essere capaci di individuare veramente queste trappole e far capire loro come fare per poterle evitare. Sul Parco Verde di Caivano Don Patriciello ha ringraziato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sono arrivati 52 milioni di euro. Dice, non sono tanti ma neanche pochi. Il centro sportivo sta risorgendo e viene dato ai nostri bambini. Non è stata una passerella. Sono arrivati 52 milioni di euro. Non è che sono 500 milioni, ma neanche 300 lire. Il centro sportivo adesso sta risorgendo. Era un cadavere che sarebbe rimasto là per i prossimi 50 anni. È risorto, viene dato ai nostri bambini. Stanno avvenendo tante altre cose. Questo è quello che succede a Caivano. Su altre cose che il governo ha fatto a livello nazionale, a livello internazionale, se permettete, non sta a me in questo momento a dare dei giudizi. Grazie a tutti.